Cocaina nascosta nelle moto d'acqua. Con l'operazione Pacific Freestyle, la Guardia di Finanza ha sgominato una banda di narcotrafficanti dedita all'importazione di ingenti partite di droga dal Peru tramite il Cile. Complessivamente sono state arrestate 7 persone che operavano tra Ostia, Fiumicino e il Sud America. Le indagini sono state avviate nel marzo 2018, a seguito dell'arresto di 5 italiani trovati in possesso di 120 kg di cocaina con una percentuale di purezza di oltre l'80% occultati nelle paratie di due acquascooter. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare tutti i membri del sudalizio. Uno dei capi dell'organizzazione aveva costituito un'associazione sportiva per mascherare l'invio dei mezzi acquatici in Sud America per finalità agonistiche. Grazie alla complicità di un dipendente di una società di spedizioni, le moto d'acqua venivano inviate ricorrendo alla pratica doganale di temporanea esportazione, generalmente adottate in occasione di invidi materiale per competizioni sportive internazionali e quindi considerata a basso rischio di controllo. La banda poteva contare su una base logistica in Cile per il noleggio di automezzi e l'acquisto di telefoni cellulari intestati a soggetti inesistenti, da fornire ai corrieri e garantiva denaro da destinare ai familiari degli arrestati per le spese legali e il loro sostentamento. Al vertice dell'organizzazione due residenti del litorale, soprannominati Maracanà e il presidente, rispettivamente di 37 e 55 anni.